FAN A GIA, FAN A GIA, FAN A GIA, FAN A GIA, FIRA, 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 FIRA BELLA A TUTTI RAGAZZI E BENTORNAI SUL CANALE E BENVENUTI RAGAZZOLI SUL ROCKET LEAGUE Questo nuovo gioco è disponibile gratis su PSN network ovviamente solamente per quegli abbonati a playstation plus ragazzuoli che dire di questo gioco è essenzialmente un gioco di calcio ma con le macchine a mio parere ragazzuoli è molto ma molto più bello e divertente di fifa come vedete sono a livello 10 in basso a sinistra scusate ci sta il livello che voi avete io sono a livello 10 perché ci sto giocando davvero tantissimo perché è veramente divertente ragazzuoli quindi andiamoci a trovare subito la partita e poi pian piano vi spiegherò come funziona dunque ragazzuoli essenzialmente questo gioco funziona in questo modo ci sono due squadre composte da quattro giocatori ciascuna l'obiettivo è appunto quello di colpire la palla e mandarla nella porta della squadra avversaria chiaramente è come se fosse un gioco di calcio però la cosa divertente è che giochi con le macchine invece dei giocatori già ci hanno segnato rega mi piace questo gioco ragazzuoli perché è difficile non è semplice guidare la macchina e colpire la palla e soprattutto non è facile mirare per mandare la palla nel nella porta rega ma è incredibile ma che cazzo di squadra c'ho non è possibile ci abbiamo perso forza rega dai dobbiamo fare un pochino di gioco di squadra non serve molto spazzatela un po via sta palla così dai vai così vai no che cazzo di liscio che cazzo di liscio che ho fatto rega poi andando avanti sempre di più con i livelli chiaramente sblocchi nuove macchine nuove skin per le macchine cose del gioco vai cazzo buttatela dentro ho fatto un assist di cristo dicevo sblocchi skin per modificare le macchine con i cappellini cose varie che però essenzialmente i cappellini sono inutili perché non è che cambia qualcosa la macchina se modifichi la skin fatelo un gol dai entra e cazzo si ho fatto pure l'assist ok un gol ce l'abbiamo fatta a farlo rega non so come cavolo gli ho fatto l'assist però va bene così 30 secondi rimasti questa partita l'abbiamo persa malamente che parata che ho fatto rega che parata ok rega ho iniziato una nuova partita ma che purtroppo è già iniziata stiamo vincendo e ho cambiato anche macchina mi sono preso il furgoncino che mi ci trovo un pochino meglio questo qua io lo chiamo il furgoncino di scubidu ammazza rega stiamo a spaccar culo io non so ne assolutamente cosa sia successo in questa partita fino adesso però grande così li stiamo rompendo il culo e la cosa mi piace vedete rega i furgoncini sul futuro sul suo gioco se c'è il furgoncino vinci c'è un cazzo da fare no cazzo che liscio rega sono entrato io stiamo guardate se perdiamo pure questa smadonna la cosa è che non c'è gioco di squadra perché uno dovrebbe sempre rimanere in porta ma la gente non lo capisce cazzo che mi sono mangiato ciò pure abbattire la del joystex carica no rega ma hanno parato un tiro di di cristo la rega che andiamo ai supplementari rega non prendete sto gol ciao 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 ciao